Noi semplicemente ricordiamo che il carnevale sta per morire, quindi ci hanno 24 ore per chiudere in bellezza il carnevale. Io sono Giampaolo Lippolis. Io sono Marilena Ginestra. Sono Rino Frittoli di Coutiniano, faccio parte dell'associazione Arco e sono il presidente di questa cacciata. Il giorno dell'estrumunzione cerchiamo di portare delle litanie nei locali dove siamo, delle preghiere in base al locale. Del carnevale l'estrumunzione, che vi porti bene questa benedizione. Mentre per quanto riguarda il giorno del martedì, è proprio un vero e proprio funerale. La bara viene bruciata e tutti che ci disperiamo. E il finale delle preghiere si auspica che riparta il prossimo carnevale il 26 dicembre. Grazie. Grazie. Grazie.